Buongiorno, oggi apriamo due nuove mystery minis, sono della Disney, sempre della Funko, mi stanno piacendo tantissimo queste mystery minis, penso che ne comprerò altre, queste le ho prese da Aliexpress, quindi non so se sono originali o meno, non mi interessa, anche perché sinceramente mi piacciono, non mi ricordo quanto le ho pagate, perché non l'ho controllato prima di fare il video, queste sono tutte e due uguali, questa è la scatola, questo è quello che si può trovare, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personaggi in tre posizioni diverse, come al solito non dico quello che voglio trovare, perché se no, tanto so già che mi capitano è qualcosa che non mi piace, però vabbè, fa niente, niente, questo è la scatola, qui abbiamo Stitch, Winnie Pooh, Malefica, Sally, Trilli, Topolino, Jack e... oh, vuoto, non mi viene in mente come si chiama, e niente, questo è tutto scritto in giapponese, cinese, non so, proviamo a tirare via la carta, vediamo cosa c'è sotto, io l'ho confrontato con la scatola di quelle di Frozen, e sono quasi uguali, adesso io non so quelle originali come possano essere, boh, ma vederle così la scatola sembra bella, sembra originale, 0,3 anni, boh, io direi di aprirle, perché sono stra curiosa di sapere cosa ho trovato, così vediamo anche se può essere, se anche l'apertura è uguale, l'apertura è uguale alle altre, vediamo se dentro c'è il solito sacchettino nero, quindi in teoria, oh, cosa può essere, non lo so, apriamo, oh, che carino, è Jack, giusto? No, è bellissimo, oddio, com'è fatto bene, funko 2012, sotto c'è il codicino Disney, bellissimo, fatto anche molto bene, dunque abbiamo trovato questo, che è 1 su 18, quindi diciamo che è abbastanza comune, bello, mi piace, molto carino, molto 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 carino, molto fatto bene soprattutto, adesso è da capire se sta in piedi, che sulla mia tovaglia, niente, stai così tesoro, ok, direi, apriamo anche l'altra, vediamo se ne vale la pena farne arrivare ancora, scatola vorrei tenere, perché se riesco, vorrei riutilizzare, una la tengo, e una la tengo come per farci degli sticker per la resina, no, no, è uguale, non ci credo, no, è sempre lui, no, bellissimo, questo è 1 su 18 anche lui, quindi è abbastanza, no, ma troppo carino, che carini, sì, non mi dispiace anche averne trovati due dello stesso personaggio, il corpo è identico, cambia solo l'espressione, no, ma troppo carini, belle, sì, mi sa che li prenderò ancora, vediamo se riusciamo a farli stare in piedi, questo ci sta, e questo non ne vuol sapere, dai, stai in piedi, salutano, niente, vabbè, li lasciamo sdraiati così, niente, io vi saluto, spero che quello che ho trovato vi sia piaciuto, che il video vi sia piaciuto, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!